Il dolore del costato, al quale appena accennato, si rinnovava ogni primo mercantile del mese in questo modo. Il sacro cuore mi si presentava come un sole sfolgorante di vivissima luce. I cui infuocati raggi cadevano a piombo sul mio cuore, che subito si accendeva di fuoco tanto ardente che sembrava dovesse ridurmi in cedere. In quell'occasione il Divino Maestro mi manifestava ciò che desiderava da me e mi svelava i segreti del suo dolce cuore. Una volta in particolare, mentre era esposto il Santo Sacramento, sentendovi tutta assolta nell'intimo del mio essere per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie capoltà, Gesù Cristo, il mio dolce Maestro, si presentò a me tutto splendente di gloria, con le sue cinque piaghe sfolgoranti come cinque soli. Da ogni parte di quella sacra umanità si sprigionavano fiame, ma soprattutto la sua donna pietra che somigliava ad una fornace ardente. Dopo averlo scoperto, mi mostrò il suo amante a un bellissimo cuore, sorgente in iva di quelle fiame. fu allora che mi svelò le meraviglie rispicabili del suo puro amore, e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, dai quali poi non riceveva in cambio che ingratitudine e indifferenza. Questo, mi disse, mi fa soffrire più di tutto ciò che ho patito nella mia passione. Mentre se in cambio mi rendessero almeno un po' di amore, stimerei poco ciò che ho fatto per loro, e vorrei se fosse possibile fare ancora di più. Invece, non ho dagli uomini che trettezze e ripulse alle infinite pregure che mi prendo per far loro del bene. Ma almeno tu dammi la gioia di compensare, per quanto ti è possibile, la loro ingratitudine. Confessando io la mia incapacità mi rispose, tieni, eccoci con che supplira la tua pochezza. E in quel mentre il divincuore si aprì e gli uscì una fiamma così ardente che temetti di esserne consumata, perché ne foi tutte penetrata, e non potendo più sostenerla, mi chiesi di avere compassione della mia debolezza. Ed egli, sarò io la tua forza, non temere. Ma presta sempre attenzione alla mia voce e a ciò che ti chiedo, per portare a termine i miei disegni. Prima di tutto, mi riceverai nella comunione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà, anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni che tu accetterai come impegno del mio amore. Inoltre, ti comunicherai il primo venerdì di ogni mese. E infine, tutte le notti che vanno da giovedì al venerdì, ti farò partecipe di quella portale tristezza che ho provato nel nord degli olivi. Sarà un'amarezza che ti porterà, senza che tu possa comprenderlo, a una specie di agonia più dura della stessa morte. Per tenermi compagnia in quell'umide preghiera che allora, in mezzo alle mie angosce, presentai al Padre, ti alzerai fra le undici e mezzanotte per prostrarti con la faccia a terra insieme a me per un'ora. E questo sia per placare la divina collera col chiedere misericordia per i peccatori, sia per addolcire in qualche modo l'amarezza che trovai per l'abbandono dei miei apostoli, che mi obbligò a riproverarli di non essere stati capaci di vegliare un'ora assieme a me. Ascolteni bene, figlia mia, non credere tanto facilmente e non fidarti di qualsiasi spirito, perché Satana smaglia di ingannarti. Per questo non devi far niente senza l'approvazione di coloro che ti guidano, perché quando sei autorizzata dall'obbedienza, il demonio non ti può nuocere, non avendo nessun potere su quelli che obbediscono. Siamo dato, adorato e ringraziato ogni momento, questi stupendi passi che abbiamo sentito di Santa Margherita Maria, che lei ha storicamente realmente vissuto, che penso ci debbano, ma senza neanche bisogno del debbano, ci facciano, per veramente vibrare fortemente il cuore e almeno interiormente commuoverci, per sentire dalla bocca di nostro Signore alcune espressioni, veramente penso che dovrebbe sciogliere anche i cuori più glaciati, insomma, anche se purtroppo sembra che non sempre così sia. E' molto bello il contesto, anzitutto, in cui accade questa rivelazione, che è forse quella centrale, dove Gesù mostra a Santa Margherita le cinque viaghe piene di fiamme, con fiamme partenti da esse, specialmente dal petto, e poi glielo scopre il petto, c'è quell'immagine che possiamo contemplare anche nella statua, qui dal Sacro Cuore, con cui il Sacro Cuore viene rappresentato, con il cuore visibile sul petto, è sormontato appunto da questa fiamma e poi gli parla del mistero del suo cuore e poi gli comunica alcune cose che sono appunto suoi personalissimi desideri che la Chiesa avrebbe poi preso molto molto sul serio, anche l'occasione, ma con solo l'occasione della canonizzazione di questa grande Santa. Dobbiamo pensare che alcuni stracci delle rivelazioni del Sacro Cuore furono dal Beato Papa Pio IX per la prima volta nella storia della Chiesa inserite nello stesso decreto di beatificazione. Era mai successo che la Chiesa, diciamo, ufficiale si muovesse e si spingesse fino a questo punto, quindi pur avendo approvato altre rivelazioni private, cioè una bolla di canonizzazione è una cosa grossa, insomma, una bolla di beatificazione è una cosa grossa, insomma, da parte di un Papa, no? e ce li ha messi dentro, alcuni di essi. Quindi stiamo dinanzi, insomma, a cose, la dottrina del Sacro Cuore, come abbiamo già visto, già gioco in discorso, è come dire, assolutamente garantita dalla Chiesa che si è proprio ufficialmente impegnata in essa. Abbiamo celebrato nel discorso la festa del Sacro Cuore, un mese del Sacro Cuore, uno dei più gloriosi ordini religiosi, che è quello dei Gesuiti, insomma, che per secoli si è impegnato a spiegare le grandi basi teologiche del culto al Sacro Cuore, a diffonderne tutta la Chiesa, la rivoluzione, insomma. Quindi possiamo davvero accogliere, ascoltare con cuore aperto queste parole. E il contesto in cui avviene è l'esposizione del Santissimo Sacramento, esattamente lo stesso contesto che stiamo vivendo noi adesso. Qui dobbiamo già fare una depressione per noi, che magari esula un po' dal contesto immediato della meditazione. Davanti al Santissimo Sacramento si gioca gran parte della nostra santificazione. Ci sono due momenti che dobbiamo imparare a valorizzare. Quando Gesù è esposto, o anche quando, non essendo esposto, possiamo comunque pregarlo in silenzio davanti al tabernacolo. E poi, qui non c'è scritto, insomma, ma direttamente più in basso, sì, dopo che lo abbiamo ricevuto nella Santa Comunione. Qui purtroppo noi stiamo in un contesto che ha perso tante cose, ma Santa Teresa Davila diceva che tutte le grazie che lei aveva ricevute, tutte, nessuno è scruse, le ricevette durante il tempo molto forlungato in cui lei rimaneva con Gesù dopo la Comunione. Cioè, adesso noi Gesù ce l'abbiamo esposto davanti ai nostri occhi, ma quando lo riceviamo nella Comunione Gesù è esposto dentro il nostro cuore. Cioè, i Maestri di Spirito hanno straraccomandato almeno 15 minuti di permanenza con voi, almeno. Io personalmente penso che ormai anche qui si sia abbastanza capito, a meno che non ci siano questioni di vita o di morte dopo la Santa Missa, non voglio per nessun motivo essere disturbato, ma non perché non voglia, insomma, avere carità o ascolto o accoglienza verso le persone, no? Ma perché in quel momento uno non c'è per nessuno. Si sta dinanzi a Gesù. Io ho bisogno di tempo abbastanza prolongati, insomma, anche molto prolongati. Vi racconto a questo proposito, insomma, che è un fatto storico, successo, una volta San Giovanni Paolo II aveva celebrato la Messa e c'era da aspettarlo il Presidente degli Stati Uniti. D'accordo? A certo punto un monsignore si fece coraggio andrò a fargli, a battergli sulle spalle, cosa che non si deve fare mai, per nessun motivo quando una persona sta pregando, meno che non ci sia un incendio in atto, cose del genere, insomma. E gli disse, richiedo perdono, Santità, ma abbia pazienza, l'aspetta il Presidente degli Stati Uniti. E lui ha risposto, mi aspetta il Presidente degli Stati Uniti? Ma io adesso sono in udienza con il Re dell'Universo, quindi è un po' più grande del Presidente degli Stati Uniti. Quindi il Presidente degli Stati Uniti vorrà avere la bontà, ecco, e la gentilezza di attendermi ancora un poco. Quindi, il contesto in cui Santa Margherita ha vissuto questo è l'esposizione del Santissimo Sacramento. Pensate che lei scrive nei suoi scritti che una notte, pensiamo all'amore di questa donna, lei è rimasta quattordici ore di seguito, dico quattordici ore di seguito, in ginocchio, davanti al tabernacolo, con le mani poggiate sulle palaustre, senza muoversi. Come ha fatto? Non lo so, ma questo è. Quindi, c'è una relazione proprio, come dire, simbiotica, ontologica, vitale, tra il Sacro Cuore e l'Eucharistia. E Santa Margherita aveva imparato, certo l'aveva anche ricevuto in dono, la preghiera profonda davanti a Gesù Caristia. Quando si stacca la spina e non c'è niente in nessuno, siamo io e lui, sentendomi tutta assorta nell'intimo del mio essere per un raccoglimento straordinario di tutti i miei sensi e di tutte le mie facoltà. Qui dobbiamo chiederci, io ho mai vissuto davanti a Gesù Caristia questo grande raccoglimento? Non sono cose riservate ai Santi queste qui. questo adesso Gesù lo dice più sotto. Questa madre dice eh no, questa è una santa, era vissuto lei ma io sono un po' lo peccatore, ma io ho abito la sermonita, ma non ho studiato, non conosco la teologia, ma che mi metta a pensare a queste cose? Non è vero, non è vero, Santa Margherita era illetterata, era ignorante, era una buona donna, se non la vissi guardata dal punto di vista del mondo. Così come tantissimi Santi nella storia della Chiesa, erano persone semplicissime, non serve niente per stare davanti a Gesù, serve soltanto una cosa che poi Gesù gliela spiega. Gesù mostra queste cinque piaghe, scopre il cuore e qui, ecco, io non vorrei neanche commentarle certe cose perché non c'è niente da commentare, no? mi svelò le meraviglie inesplicabili del suo puro amore e fino a quale eccesso questo lo avesse spinto ad amare gli uomini, ecco, dai quali poi lo riceveva in cambio che ingratitudini ed indifferenze. L'indifferenza è proprio il peggio di un coltello gelato, cioè io quando quando si pensano a queste ingratitudini e a queste indifferenze, noi dobbiamo pensare che è come se prendessimo uno stiletto affilato e lo piantassimo nel cuore di Gesù, uguale. Gesù stesso dice questo mi fa soffrire, cioè l'ingratitudine e l'indifferenza, più di tutto ciò che ho patito è la mia passione. Noi sentendo queste cose spero che dovremmo noi sentirsi trafiggere il cuore peggio che da uno stiletto perché è colpa nostra. Magari una vita siamo stati o tante volte ingrati o indifferenti verso Gesù, no? Noi pensiamo Gesù sta sempre nei tabernacoli. Io penso che nessuno l'abbiamo ridotto dal tabernacolo di Sermoneta, quindi sono è la vita che sta qui. Ma quanti ricambiano, apprezzano, stanno con Lui, sono grati, sono fervorosi. E Gesù dice sta attento che se io in cambio ricevessi tanto così almeno un po' d'amore stimerei poco ciò che ho fatto per lui e per lui vorrei se fosse possibile fare ancora di più. Qui bisogna fare la prova perché se uno si mette davanti a Gesù caristico impara a fare ringraziamento dopo la comunione non scappa subito finita la messa come se stesse sulla graticola l'accorta calma l'accorta state con Lui si viene a fare qualche passeggiata davanti a Gesù stai con calma davanti a Lui dagli un po' di tempo dagli un po' di importanza dagli un po' d'amore poi vedi quello che succede vorrei se è possibile fare ancora di più ma che cosa potrebbe fare Gesù di più di quello che ha fatto per noi con quella passione orrenda e quella morte terribile che ha affrontato ecco e invece non ho dagli uomini che freddezze ripulse alle infinite premure che mi prendo per far loro del bene cioè Gesù sta continuamente in atto quando io ci penso mi dilani interiormente cioè c'è qualcuno di grande che non ha bisogno di dire che sta continuamente chinato su di te a guardare tutto quello che fai a preservarti dei pericoli a farti del bene a mandarti buoni pensieri altre queste cose e gli uomini proprio zero come se non c'era come se non esistesse e di fatto Gesù non esiste per la stragrande maggioranza degli uomini anche per quelli che dicono di credere è terribile e chiede a questa santa donna almeno tu almeno tu dammi la gioia di compensare per quanto ti è possibile la loro ingratitudine che il nostro essere qui davanti a Gesù sia sempre un attestato non soltanto del nostro amore ma anche un modo per dirgli Gesù guarda io la faccio veramente l'ora santa cioè io quest'ora la faccio con tutto il cuore per me ma anche per tutti quelli che che non te si filano proprio si dice a Roma ecco e poi Gesù dà alcune indicazioni la comunione prima di tutto mi riceverai nella comunione attenzione tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà anche se te ne verranno mortificazioni e umiliazioni perché tutte le volte che l'obbedienza te lo permetterà perché una volta ecco qui si passa sempre da un estremo all'altro una volta la santa comunione tu non la potevi fare senza il permesso esplicito del confessore si può come se ho confessato mi sento in grazia del Dio ma non fa niente perché era tale e tanto diciamo così l'amore la differenza che si aveva verso la santa comunione è che c'era questa tradizione questa consuetudine ecclesiastica certo questo a volte era un po' troppo d'accordo perché veramente la comunione non servisce quasi nessuno quello che raccontano i nostri ormai bisnonni ecco però tra questa estrema esagerata forse delicatezza nei confronti del sacramento e la leggerezza che ci sta oggi c'è gente che va a farsi la comunione magari perché sta a un funerale di una persona cara pur se non si è confessa da 15 anni e insomma ci deve essere una buona via di mezzo o andare a prendere la comunione per abitudine o come se fosse una caramella o appunto ho fatto la comunione appena al sacerdote della benedizione esco e se qualche sacerdote fa due preghiere manca con le due preghiere rimango perché ho la graticola purtroppo questo qui purtroppo l'uomo va sempre che passa da un eccesso all'altro e poi Gesù comunica due delle pratiche legate al sacro cuore ti comunicherà il primo venerdì di ogni mese questa è la pratica del primo venerdì del mese che comincia a introdurla poi sarà più esplicita nell'apparizione seguente e poi ecco l'ora santa tutte le notti che vanno dal giovedì al venerdì ti farò partecipe di quella mortale tristezza che ho provato nell'orto degli olivi sarà un'amarezza che ti porterà senza che tu possa comprendere a una specie di agonia più dura della stessa morte e gli chiede compagnia da che ora dalle undici a mezzanotte l'abbiamo già introdotto una volta scorsa se non ricordo male cioè Gesù in quell'ora chiese la compagnia nella preghiera ai tre apostoli a Pedro Giacomo Giovanni che tutti sappiamo si sono addormentati una volta sola scrisse il filosofo cattolico cristiano Blaise Pascal Gesù ci ha avuto bisogno degli uomini perché al Getsemane oltre a tutte le altre bene sentiva l'abbandono del Padre si sentiva solo Gesù e ci aveva degli amici insomma oltre che degli apostoli delle persone da cui si aspettava che gli volessero bene ha detto pregate con me non è che mi potete risparmiare tutta il turcalici che vedevo bene però è diverso quando si è in compagnia quando c'è qualcuno che ci sta vicino no? niente una volta sola il figlio di Dio che non ha bisogno di nessuno ha voluto aver bisogno degli uomini e quell'unica volta si sono addormentati e questo era certamente un'immagine purtroppo che Gesù ha vissuto in anticipo di tutti coloro che l'avrebbero lasciato solo perché Gesù è solo è solo nei tabernacoli è solo nelle messe è solo nelle ostie in tante comunioni non fatte per indifferenza per spreggio insomma eccetera chiede a questa santa donna questa pratica dell'ora santa e gli chiede di farla prostrata con la faccia a terra cioè nella stessa posizione che Gesù aveva come ci informano i Vangeli mentre pregava nell'orto degli olivi a Gerusalemme nella basilica del Getsemane c'è proprio ancora il masso dell'agonia con la pietra dove Gesù pregò con la faccia proprio poggiata a terra proprio in stato di estrema frustrazione e questo non soltanto dice per chi per pagare la divina colleta e chiedere misericordia ai peccatori ma per addolcire l'amarezza che provai per l'abbandono dei miei apostoli che mi obbligò di non essere stati capaci di voglia non la sua volle l'ultima cosa importante su cui meditare questo vale soprattutto per le anime mistiche ma vale anche per chi desideri fare un buon cammino di santificazione non credere tanto facilmente e non fidarti di qualsiasi spirito noi non dobbiamo fidarci di qualunque cosa che ci passa per la testa e dobbiamo avere l'umiltà sempre di sottoporre i nostri pensieri a chi è più santo e più saggio di noi perché satana smade di ingannarti non fare nulla senza l'approvazione di coloro che ti guidano solo quando sei autorizzata dall'obbedienza il demone non ti può nocere non avendo nessun potere su cui mi conferiscono per Santa Margherita in particolare significava che loro a santo il monastero non può alzarsi alle 11 di notte e andarsene in cappella lo può fare di testa sola deve chiederlo alla superiore e lo può fare solo se la superiore ne ha permesso ci furono tanti aneddoti di qualche volta che la superiore non gli aveva dato permesso è successo il film del monastero poi gliela dovuto dare ma comunque Gesù non voleva che nessuna di queste cose pur avendogli le dette lui attenzione Santa Margherita si muovisse senza il placere dell'obbedienza dei suoi legittimi superiori canonici la superiore del monastero e il suo direttore spirituale ricordiamo sempre questo è un principio generale che il demonio può fare qualunque cosa e qualunque inganno quando ha fatto tutti i colori io anche ho avuto tanti di quelle esperienze che ci potrei scrivere un libro ma non può fare solo una cosa non può fare nulla ad una persona che sia sinceramente e autenticamente obbediente perché tutte le virtù sa simulare il demonio la carità la fede la speranza l'umiltà la fortezza la temperanza i digiuni le benitenze le fa tutte ma una sola non la sa fare perché non è buono perché lui non è così che è l'ubbedienza il diavolo non obbedisce a nessuno se non a se stesso e quindi soltanto chi obbedisce a Dio e ai suoi rappresentanti è sempre e al 100% sicuro da ogni tranello e da ogni insidia del diavolo salutato adorato e ringraziato ogni momento e ringraziato e ringraziato e ringraziato e ringraziato